Noi siamo nella situazione di un bambino che è entrato in un'immensa biblioteca piena di libri scritti in molte lingue. Il bambino sa che qualcuno deve aver scritto quei libri ma non sa come e nemmeno conosce le lingue in cui sono stati scritti. Il bambino sospetta vagamente che vi sia un misterioso ordine nella disposizione dei volumi ma non sa quale sia. Questa mi sembra la situazione dell'essere umano anche più intelligente di fronte a Dio. Noi vediamo un universo meravigliosamente ordinato che rispetta leggi precise che possiamo però comprendere solo in modo scuro. I nostri limitati pensieri non possono afferrare la forza misteriosa che muove le costellazioni.